bene ragazzi ed eccoci in un nuovo video oggi andremo a vedere lo sblocco di un mstd sì certo ragazzi sto parlando sempre di audi quindi di sistemi infotainment audi prima generazione ragazzi molti mi hanno chiesto sull'mstd se posso installare carplay o android auto no non è possibile ragazzi è un sistema vecchio e non supporta carplay android auto quello che oggi vi faccio vedere è lo sblocco del sistema ovviamente trovate tutti sui siti preposti allo sblocco vi faccio vedere chi lo ha eseguito i passaggi che ha fatto e quello che si può attivare ben poco ragazzi è soltanto le mappe per quanto riguarda il carplay android auto ragazzi ho postato un video eccolo qui per quanto riguarda l'installazione di un modulo specifico per questo tipo di mmi quindi riassumendo un carplay originale no su questo sistema soltanto modulo quello che guadagnerete montando il modulo è anche l'installazione della retrocamera cioè l'ingresso video della retrocamera e fronte come feci io all'epoca con un sistema diverso però il modulo era molto molto simile detto questo vi faccio vedere subito il video per quanto riguarda lo sblocco oggi proveremo ad aggiornare il sistema di navigazione di questa audi a3 8v che monta in particolar modo un mstd lo potete vedere andando su menu setup info versione mstd in particolare mappe del 2013 quindi sono vecchie di dieci anni le mappe si trovano nel vano porta oggetti nello slot sd 1 queste sono del 2013 è una sd originale audi ed è praticamente inutilizzabile perché protetta da scrittura quindi non possiamo farci niente ora per poterlo aggiornare ci servirà una micro sd samsung kingston l'importante che sia di qualità e da almeno 8 gb e dovrà essere formattata perché il sistema di audi supporta solamente la formattazione fat 32 con unità di allocazione 4096 bit in questo caso la formattazione è andata buon fine ora seleziono la sd questa è lsd e questa è la mia cartella con l'attivatore io li copio e li incollo direttamente nel root nella sd sempre importante fare la rimozione sicura per essere certi che abbia passato tutti i dati adesso questa sd dovrà essere inserita nello slot sd 1 che si trova nel vano porta oggetti ok ora per caricare l'attivatore nel sistema è importante entrare nel red menu in questo caso per il mi buono standard si preme il tasto back e il tastino in alto questo qui insieme contemporaneamente partendo da questa schermata partendo da questa schermata io li premo contemporaneamente che si è aperto il menu rosso qui ci sono varie sezioni settings sistema update sul sistema possiamo vedere chiavi di attivazioni queste sono vari codici che abilitano funzioni come bluetooth navigazione per esami quella che ci interessa a noi è attivare questo codice 0 22 00 e e questo permette di aggiornare autonomamente il sistema di navigazione ogni anno in questo caso quest'auto lo abbiamo già attivato noi faremo vedere come procedere lo stesso quindi questa è la pagina iniziale del red menu cliccando su update selezioneremo sd 1 una volta selezionato il precesso andrà in automatico si riavvierà un paio di volte ci metterà all'incirca cinque minuti e praticamente il gioco è fatto allora una volta che ha completato l'aggiornamento il caricamento dell'attivatore io utilizzo la stessa sd la metto sempre nel computer utilizza sempre gui format fat 32 xe sd seleziono 4096 l'unità di allocazione qua ci scrivo mappe audi 2023 premere su close adesso la formattazione completata in questa cartella ci sono praticamente le mappe questo è tutta europa ci sono un sacco di paesi io seleziono questi due elementi importante li copio vado su un sd che adesso vuota incollo sono circa 7 giga e mezzo di mappe ci metterà un 10 minuti abbondante ragazzi appena finito di copiare le mappe questa è la cartella adesso io chiudo rimuovo lsd sempre con la modalità sicura e questa va inserita sempre nello slot sd 1 nell'unità che si trova ne fanno portoggetti poi andate su navigazione e controllerà i dati che ci sono sulle sd ci mette un paio di minuti ci vediamo subito dopo ragazzi ci ha messo veramente pochissimo queste sono le mappe aggiornate per guardare se è andato tutto bene possiamo andare sul menu setup in basso sempre su info versione ecco banca dati navigazione versione europa 2023 un saluto a danilo dai fratelli terzi e buona continuazione bene ragazzi come avete visto il sistema diciamo che apparentemente è semplice la problematica è proprio la sd che è bloccata quindi per fare lo sblocco e aggiornare le mappe c'è bisogno di una sd particolare e formattata in una certa maniera con un particolare root in questa maniera il vostro vmi potrà leggere sia il software quindi per sbloccare sia potrà leggere le mappe quindi ragazzi tirando le somme e cercando di fare un confronto con il modulo carplay android auto anche perché il fatto di fare lo sblocco e aggiornare le mappe ha un suo costo e siccome è un costo che potrebbe essere abbastanza importante aggiungendo qualcosina in più si può ottenere il modulo carplay android auto wireless quindi fare veramente un passo in avanti è chiaro che poi avrete le mappe di google aggiornate e non più le mappe ovviamente della vostra audi ormai obsolete quindi ragazzi io lascio giù il prodotto eventualmente del carplay android auto modulo in modalità wireless chi lo vuole lo può acquistare con il codice sconto che linko sempre in basso che in descrizione lo lascio ovviamente ragazzi chi non vuole il modulo e vuole lasciare la macchina originale può sempre fare lo sblocco ovviamente o tramite canali ufficiali da codificatori oppure attraverso vari siti internet che propongono le patch lo sblocco e quant'altro ovviamente ragazzi è una procedura anche rischiosa quindi affidatevi a persone che lo hanno già fatto e ovviamente l'hanno completato in maniera perfetta quindi ragazzi per oggi è tutto noi ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao